Per me è un'occasione per viaggiare, scoprire dei posti nuovi, molto belli, interessanti, non mi aspettavo. Le luci, le particolari. Per me è un momento di condivisione. Devo dire che per me è una bellissima sorpresa. Un concentrato di creatività che si manifesta visivamente e sonoramente. Espressione attraverso lo specchio della realtà. È stata l'occasione per ricevere un riconoscimento per la mia sceneggiatura. È il ventricolo sinistro dell'emissione adesso del mio muscolo cardiaco.